Il treno regionale 6797 di Trenitalia delle ore 15 e 20 per Piazza Alcerchio, via Luca, partirà dal binario 4 invece che dal binario 1. Il treno regionale 6797 di Trenitalia delle ore 15 e 20 per Piazza Alcerchio, via Luca, è in partenza dal binario 4 invece che dal binario 1. Il treno regionale Il treno regionale 6797 di Trenitalia delle ore 15 e 20 per Piazza Alcerchio, via Luca, in partenza dal binario 1 invece che dal binario 4 invece che dal binario 1, per tutte le stazioni pseudo-primeggi organizzano vune Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.